Benvenuti a questo nuovissimo episodio della nostra carriera allenatore con il Modena su FIFA 23. Oggi episodio importante perché è quello precedente al mercato di riparazione, quindi si prendono le scelte. Faremo dei sondaggi nell'arco dell'episodio, soprattutto qua in live su Twitch, che vi ricordo se volete seguire questa live, questa carriera in live al 100% prendendo le decisioni insieme a me, c'è Twitch TheKingXIV, trovate il link in descrizione nel commento più in alto, così come se volete il mercato di riparazione in un singolo episodio bisogna raggiungere il punto 8k su Instagram, dove potete conoscere meglio e rimanere in contatto con me. E invece se volete vedermi parlare di altro oltre al calcio, vi è TikTok, quindi tutti i social sono a vostra disposizione. Come dicevo è un episodio importantissimo, perché abbiamo 5 partite sicure contro Brescia, Palermo, Frosinone, Cosenza e Cittadella, e poi dovremmo decidere se giocarci anche quella contro il Perugia, quindi 6 partite. Magari una, proveremo i momenti clui, i momenti chiave, adesso non mi ricordo come si chiama la nuova simulata matta di FIFA, la proveremo, faremo un test, non l'ho mai utilizzata, quindi faremo un test in live, vedremo un po' com'è sta cosa. Pareri degli altri creator, non li ho visti molto contenti di ciò, però comunque andiamo subito al solo perché abbiamo il Brescia. Il Brescia è non in classifica, con 23 punti, noi tredicesimi a 18. Ho modificato un po' di istruzioni all'interno della scuola, soprattutto per l'attacco, perché l'attacco si muoveva totalmente a caso, e quindi ho sistemato qualcosa, ho creato anche la formazione per il turno per così da fargli allenare e prendere un po' di lucidità. Detto ciò, andiamo a giocarci la prima partita di questi episodi contro il Brescia. Prima però, facciamoci la formazione. Contro il Brescia, giochiamo con Gagno in porta, Coppolaro, Cittadini, De Maio e Giamas, Panada, Benassi, Teio, Odei, Zielar e Marsura. Fuori casa, sotto la pioggia, Gustavo Pollonio è l'arbero di questo match, si va contro il Brescia. Ma la formazione del Brescia, scusatemi, gli esports, si abbracciano, si baciano, famo gruppo e tutto, non ce la fanno vedere. È stato deciso così. E quindi fuori casa, è tutto pronto per Brescia-Modena, partiamo noi. Parte Zielar, si parte per Rundinelle contro Canarini. Siamo perché abbiamo creato un po' di superiorità con Benassi, che va da Zielar, per via centrali, Zielar ha servito. Zielar con il destro, cosa ha preso Andreinacci? Comunque queste parate ragazzi sono irrealistiche al massimo. Era passato il pallone, Andreinacci è diventato tutto storto, cioè praticamente non c'ha la spina dorsale, è riuscito a prendere sta cosa. Come ha fatto Andreinacci? Guarda, dentro per Benassi, attenzione a Moreo, Moreo l'ha lasciato solissimo, Moreo, Gagno, Gagno. Poi Karacic, dentro per Ajè, Cittadini, niente. Gol da partire Ajè al ventiduesimo, mi sembrava strano che avessimo evitato una rete del Brescia. E andiamo sotto con Florian Ajè, che l'avevamo individuato come il pericolo più grande di questo Brescia. Benassi, dentro a Zielar contro Cistana, è passato Zielar, sfonda la porta stavolta. E al ventisettesimo è 1-1 per i canarini, con Jean Zielar, che a quanto pare il suo marchio di fabbrica è stoppare il pallone. Spalla la porta dal limite dell'area, girarsi e poi ad incrociare con il destro una bomba. Brescia vuole subito rifarsi dopo il gol subito con Karacic, manda al bar Giamas, palla dentro per Moreo, Moreo contro Gagno, Gagno esce perfettamente. Invece da applaudì De Maio, ma andiamo a recuperare il pallone, che stava uscendo lentamente. Partita molto intensa, con ritmi altissimi, di testa pannata da allontanare verso Teio, che come ha controllato sto pallone su Benali, Benali lo prova ancora Gagno. Ma Teio ha perso il pallone sul gol loro e l'ha perso anche qua in uscita. Prova a passare contro Karacic, Marsura, passa su Karacic, Marsura dietro, da Zielar, cosa ha preso quel difensore avversario sulla linea praticamente, poi calcio d'angolo per noi. Ward largo, il numero 3 contro Coppolaro, buona per Moreo, e qui sofferenza totale, ancora Ward, Ward per Benali, Benali da Ward lasciato solo, Gagno e Aiee poi sulla ribattuta. 2-1, ancora Florian Aiee al 51esimo, Udei, vada a allargare un po' il gioco, Brian Udei, vede Zielar, lo cerca un po' troppo corta questa palla, Zielar la difende comunque. E vada Udei che palla da parte di Zielar, Udei! Teio! Teio! Cadendo al 61, 2-2 con Andres Teio, primo gol con la maglia dei canarini, l'ha buttata dentro Teio! Ma qui dovevo tirare con Udei, l'ho passata a Teio, ci ha detto benissimo, ci ha detto benissimo! Cittadini chiude, vincere in pallo qui a Aiee, dentro per Moreo non ci credo, dentro per Moreo non ci credo, Moreo, Moreo, Bianchi lascialo solo, Gagno, Gagno su Bianchi! Corner per noi, con Simone Panada, e la scodella in mezzo, a cercare uno dei nostri, palla che arriva a Teio! Stavo sognando, stavo sognando Andres, poi mi sono ricordato che c'è quei piedi! De Maio, verso Marzura, forse ultima occasione per noi! Però è bloccato in mezzo a tutti, allora da Teio, Teio, vede Zielar le lo serve, Zielar, Zielar, Zielar! Andrenacci! Mi sa che è finita, eh sì, infatti finisce così, 2-2 contro il Brescia, però a quanta occasione al secondo tempo abbiamo dominato! Abbiamo risposto bene però ai padroni di casa, e tra Rundinella e Canarini finisce in pari, 2-2, primo del mese! Ammutinamento dalla squadra, ammutinamento dalla squadra nei confronti di Mr. King, e stanno a giocare contro! Ce l'avevo sperato, sapete! Ma non mi ci puoi far credere così! Sarà stato un errore, dai! 62 anche! Abbiamo fatto un sondaggio qua in live per quanto riguarda Simone Marino nella primavera, primo dei tanti sondaggi che ci saranno in questa, in questo episodio, in questa live! Simone Marino è un giocatore che, preso per le stazze, è un giocatore inguardabile, un terzino che non è veloce, non sa difendere, non sa fare nulla! L'unica cosa che lo salva è il potenziale! Abbiamo fatto, insieme al mio moderatore di fiducia, Gigi, un sondaggio dove davamo 4 opzioni, ossia lo rescindiamo, lo teniamo in primavera, lo promuoviamo, mandiamo in prestito, oppure lo promuoviamo e lo cediamo! Ha stravinto il promuoviamo e mandiamo in prestito! Quindi promuoviamo in prima scuola Simone Marino e attualmente completiamo anche l'obiettivo dei due slot per quanto riguarda la primavera, ha lo stato di ottima promessa, quindi ha un 90 più di potenziale! Noi lo mandiamo in prestito così da fargli prendere qualche punto overhaul! Primo centro stagionale per te, io! E direi che questa è la rappresentazione perfetta! Schermo nero! Abbiamo il Palermo, la mia seconda scuola del cuore, dobbiamo affrontare un Palermo che attualmente è undicesimo, ci andiamo a fare la formazione per il Palermo! Contro il Palermo al Braia giochiamo con Gagnu in porta, Ponzi, Mertens, De Maior, Renzetti, Panada, Benassi, Teio, Odei, Celar e Azzi! Questo è il nostro 4-3 che affronterà il Palermo, il rosa-nero e si va dunque per Modena! Palermo! Non ci fanno vedere anche questa volta le formazioni! Quindi anche per questa seconda volta le formazioni non vengono fatte vedere da FIFA! A quanto pare con il nuovo aggiornamento hanno tolto anche le formazioni! Che bello! Che bello! Paolo Azzi largo, punta l'avversario, si fa vedere anche Teio, preferiamo andare da Benassi, ancora Azzi, centrali, Azzi dentro per Celar, Celar! Tutto regolare, al dodicesimo, il gigante di Cragni, sblocca il match al Braia, 1-0 Modena contro il Palermo! Grande palla da parte di Paolo Azzi e grandi scarpini da parte dei nostri perché a quanto pare non ha segnato Celar ma i suoi scarpini! Dentro per Gomez contro Mertens, Gomez chiuso da Mertens, buona per Oddei che manda al bar Sala! Cosa ha fatto qui Brian Oddei? Vai Brian! Accelera, accelera, accelera! Non sei velocissimo ma accelera, infatti Sala rientra! Oddei rientra con la suola! Bravissimo qui Brian! Dentro per Celar, capisce tutto nel serato così come Sala! Di testa Renzetti verso Panada, solo Modena però al Braia! Targa verso Floriano, Gomez, Vido, Renzetti prova a chiudere, Vido cross in mezzo, Mertens la tocca appena, poi Panada sbaglia qua! Stulaz dentro per Di Mariano con la punta al primo di rimporta, l'avevo detto! 1-1 al sessantesimo il Palermo, pareggia i conti, l'avevo detto! Panada adesso, giochiamo verso Teio, Azzi che si accentra ma si deve nuovamente defilare, Azzi cross a cercare! Jean Selar, Palo! Palo colpito da Celar! Se non erano anche i pali interno colpito dal gigante di Cragna! Rientra Paolo Azzi, va da Teio, Teio va nuovamente da Azzi, 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 cross in mezzo per Celar! Valo d'Angela all'82, Jean Selar, doppietta contro il Palermo, prima doppietta con la maglia dei canarini, 2-1 al Braia con Jean Selar! Aspettiamo, non abbiamo fretta noi, il novantunissimo adesso, Renzetti, Renzetti, Marsura te sei messo in mezzo, te sei messo in mezzo Davide, io non lo so, ma finisce così al Braia! 2-1 contro il Palermo, una partita letteralmente dominata, la decide, la doppietta di Jean Selar su due assist stupendi da parte di Paolo Azzi! 2-1, si torna alla vittoria! Abbrosa, per Greffi, gli strasferimenti! A noi servono i soldi per riscattare a fine stagione Benassi, 2 milioni e 2 ci servono! Noi cederemo il buon Ucadda, quindi ci entrano le casse se non erro 500 mila! Cederemo, si spera, Piacentini per almeno un milioncino e cedere per Greffi ci garantirebbe di avere i 2 milioni e 2 a fine stagione per riscattare Benassi! Per Greffi sì, nella realtà è capitano, però è un giocatore che su FIFA è inutilizzabile, è avanti, troppo avanti con l'età, sta scendendo tantissimo, non ha mai giocato con noi, quindi credo che sia giusto mandarlo via! Quindi sacrificheremo per Greffi, Piacentini e Ucadda per riscattare a fine stagione Benassi, perché come vedete noi attualmente abbiamo 875 mila e ci servono, ci servono disperatamente i soldi! Detto ciò, abbiamo il Frosinone adesso, Frosinone che è sedicesimo, noi saliamo all'undicesima posizione, andiamoci a fare la formazione per il Frosinone per dare continuità in questo periodo dove stiamo ottenendo dei risultati positivi! Piremo il pari e poi la vittoria! Giochiamo con Gagno in porta, Punzi, Cittadini, Mertens, Giamas, Panada, Benassi, Gargiulo, Giovannini dal primo, Selar e Azzi! Andiamo contro il Frosinone, fuori casa! Giamas! David! 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 Giamas! E qui Loria! La blocca! Ma David Giamas, ragazzi, è mostruoso! L'avete paragonato a Teo Hernandez nell'ultimo episodio, ma è Teo che sembra Giamas! Giovannini, dentro per Benassi, grande palla, Benassi, Benassi, cross, a cercare! Jean Selar con la testa, schiaccia troppo! Non è che non c'è il potenziale dinamico, c'è ma non funziona! Praticamente anche se i giocatori giocano bene è come se... Devo stare concentrato sulla partita perché sennò succedono ste cose! Dentro Dey e dentro Marsura, così come dentro Bonfanti, tre cambi per noi... Marsura si inserisce e quindi viene chiamato in causa nuovamente... Davide Marsura contro Cotali, può andare Marsura, 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 dietro... Per Bonfanti con la punta! Al primo pallone che tocca! Lo squalo! Azzanna il Frosinone e ci porta sul pari! Che inserimento! Cosa ha fatto anche Marsura? Le forze fresche switchano la partita ed è 1-1! Ross da parte di Insigne sul primo, panata con la testa allontanata e perso Dey! Vai Brian, defilati! Immediatamente! Immediatamente perché c'è Zellar che si sta inserendo! Inserisciti! Inserisciti Gian! Udè però è rapidissimo, è freschissimo! Odey! 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 Dentro per Zellar! 2-1 all'87! L'abbiamo ribaltata con i cambi! 2-1 a Modena! Ancora Jean Zellar! Ancora Jean Zellar! 9-16! Bellissima azione da parte di Brian Odey che manda al bar tutta la difesa del Frosinone! E l'abbiamo ribaltata fuori casa con Jean Zellar! Marsura prova a partire in velocità, gli crea lo spazio a Ponzi! È il 91esimo adesso! Ponzi dentro per Marsura! Dentro per Marsura! Dentro per Marsura! Dentro per Marsura! Per chiuderla! Marsura a porta vuota c'è ancora! Nicola Sbonfanti! Nicola Sbonfanti e Loria! Chiude in due tempi! Ma vinciamo fuori casa contro il Frosinone! Meritatamente! Visto il secondo tempo abbiamo fatto un qualcosa di clamoroso! Gol di Zellar che ne fa 9-16! E' sempre più in forma! E' sempre più gigante di Cragna! Prestito per Simone Marino! Dal Clujo! Prestito con diritto di riscatto! Noi deleghiamo! Prestito secco! Il Cosenza sta facendo malissimo tra l'altro! Perché è 17esimo! Noi siamo decimi! Andiamo ancora più su! Siamo a meno 2 dai playoff! Derby del canale perché il Cosenza lo utilizziamo su FIFA 18! Anzi no! FIFA 19 scusate! E stiamo facendo un grandissimo episodio! E quindi adesso andiamo a farci la formazione per questo Cosenza! E poi contro il Cittadale la proveremo in momenti glow! Neve al Braia! Dobbiamo cambiare il pallone! Contro il Cosenza! Al Braia sotto la neve! Giochiamo con Gagno! Ponzi! Silvestri! Maglior Renzetti! Pana da Benassi! Teio! Marsura Zellar! Odei! Loro giovano in questo 4-2-3-1! Tutti stanchi! Marsa non importa! Rispoli! Bison stanchissimo! Camigliano! Gozzi! Corvig! Sidibe! Corzi e Meram stanchi tutti e due! Justin Meram è lui? Credo di sì! Durso e Larive che praticamente sta all'ospedale con Aflebo perché non si regge manco in piedi! Andiamo contro il Cosenza! Al Braia! Va da Udei! Buona per Panada! Che va nuovamente da Udei! Che è scattato! Brian! Si è portavanti con la testa! Udei! In mezzo c'è Selar! Lo cerca! Selar! Perché ci sei andato con la testa? Va c'è con la puntazza la Ibra no? Benassi nuovamente! Selar si inserisce e quindi viene servito Selar! Selar passa su due! Selar! Selar! Cosa ha preso Marzon? Cosa ha preso Marzon? Ma quanta è in fiducia Selar ragazzi! Vedete quanto i gol danno la fiducia all'attaccante? Quando c'è la lucidità l'attaccante sa giocare! Gozzi passa intanto su Ponzi! Palladero per Durso! Qui Gagno! Si deve distendere sulla neve! Forse in chiusura! In chiusura c'è De Maio! E lungolina da Marzura! Spazio in unico per Davide! In mezzo c'è Repeteio! Che poi però si ferma! Ancora Marzura! Ancora Marzura! 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 E ci ha messo trent'anni per caricare il tiro! Ce l'avevi sul mancino! L'avevi incrociato apposta! Si è portata sul destro! E ha perso il tempo di gioco! Davide! Vedete Selar che si inserisce e viene servito Selar! Selar! Selar è un po' defilato! Selar! Selar! L'ha presa Marzon! E anche cambio per noi perché esce Teio e intra Bonfanti! E finalmente uscire il pallone in questo secondo tempo non era mai uscito! Panada! Posta da parte sua! Cercare! Jean Selar! Rimazza a due! Palla che si impenna! De Maio! A cercare! A trovare Marzura! Ha respinto! Partire un po' noiosetta! Ci abbiamo avuto qualche occasione nel secondo tempo! Soprattutto quella con Selar! Ma Marzon ha fatto un miracolo! Per il resto credo sia giusto il pari! E loro hanno fatto due tene in porta! Noi qualcosina in più! Ma niente di che! La neve ha addolcito un po' il tutto! Ecco! Tra l'altro rischiamo di perdere tre giocatori! Tocca a decidere che rinnovare! Offerta è trasferimento di Pergreffi! Finalmente! Pergreffi il suo show lo vuole! Andiamo a trattare! 400k? Accettano! Bene! Bene! Benissimo! E adesso ci deve arrivare l'offerta per Piacentini! E qui ragazzi entro un attimo io a parlarvi del perché ho preso la decisione di cedere Pergreffi! Come abbiamo detto più volte sia in live e qua nei video su YouTube Pergreffi è il capitano di questo Modena! All'inizio del progetto volevo tenerlo anche come icona diciamo anche senza fargli giocare una partita però perché si tratta del capitano nel Modena e quindi una bandiera! Però come ho detto all'interno del video e come ho detto più volte nell'arco di questa serie bisognava raccimolare i soldi per riscattare poi a fine stagione benassi! Pergreffi tra quelli che abbiamo attualmente in rosa era purtroppo il più sacrificabile! Perché? Perché Mannino, Tremolada, Falcinelli sono tutti giocatori che nell'arco della stagione potrebbero tornarci utili! Metti caso che ci si infortuna qualcuno a centrocampo o qualcuno in attacco! Falcinelli e Co potrebbero subentrare! Ovviamente nel mercato di gennaio dipenderà dai movimenti che faremo! Ma attualmente prendendo la squadra Pergreffi era quello più cedibile tra tutti! E' stata una decisione sì difficilissima ma necessaria! Quindi ci dobbiamo farvi questo piccolo sutto di ciò che ho scelto di fare insieme alla chat in live! Vi ripeto che se volete prendere tutte queste decisioni insieme a me così delicate e così importanti c'è proprio Twitch! Mi spero capiate le mie motivazioni e adesso vi lascio al video! Oh eccola qua! L'abbiamo chiamata un milione dal Sion! Chiedo un milione e centocinquantamila! Un milione e centocinquantamila che sono oro colato! Trecentocinquantamila in più rispetto al suo valore! Cittadella! Siamo undicesimi! E' il momento della verità! Proviamo i momenti clou! Ho tanta ma tanta paura perché i momenti clou fanno schifo! Io non l'ho mai provato su sto via! Mi hanno detto tutti che fanno veramente pena! E tra l'altro contro la ventesima! Se deve andare male qualcosa andrà male proprio in questa partita! Momenti clou tutti! Non solo attacchi! Modena si invuole in solitaria! Al secondo? Se l'arcosì? Se l'arcosì? Me lo stai dicendo in questo modo? Gian? 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 1,35! E' bastato questo per sbloccare il match? 1-0 Modena! Occasione di cross per città dal ventinovesimo! Carriero! Cosa che segnano? Lores! Seculin! Calcio d'angolo! Companada! Simone in mezzo! Teglio con la testa! Mi stavo sentendo male! Ma come? Ma era angolo? Ma ce lo dovevi fa batte? Ma sono bruttissimi ragazzi! Inguardabili! C'è l'ar... No! No Gian! E' finita! Abbiamo vinto il 1-0! Ma sono guardabili i momenti clou! Era per provarli! Cioè alla fine ci sta che li proviamo! L'abbiamo provati contro l'ultima in classifica! E abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Questo è l'importante! Porto! Muso! Te ne intendi? Tutti vogliono piacentini! Il Burgos ci offre pool bassa più 27.000! Ma ci sta più in giro! Io ti chiedo 1.250.000! 100.000 in più rispetto a quelli che ho chiesto al Sion! Ma te me vuoi dare tutta la squadra tua per piacentini! Ma a me mi dispiace! A me dispiace tanto! Burgos! Adesso si cerca! Burgos! Burgos! Club de football! C'hanno un attacco penoso! Però 0 gol subiti in 10 partite! C'è 10 partite! 18 punti! 6 gol fatti! 0 subiti! Ha cambiato idea Benassi! Finalmente sono migliorate le cose! Ceduto per Greffi! 400k nelle casse! Allora abbiamo visto un bel po' di roba in questo episodio! Ma adesso è arrivato il sondaggio clou! Infatti decideremo un po' chi prendere in precontratto nel mercato di riparazione! Già vi dico che sono 3 nomi! E voi dovrete sceglierne solamente uno tra questi! Il primo è Federico Barba del Pisa! Perché ho messo Barba? Perché il prossimo anno bisogna fare una rivoluzione di centrali! De Maillot e Silvestri non stanno cominciando e sono già avanti con l'età! Cittadini? Malissimo! Volevo riscattare all'inizio stagione ma le prestazioni stanno dimostrando il contrario! L'unico che rimarrebbe sarebbe Mertens! Capite che tocca un attimo rivoluzionare la rosa per i centrali perlomeno! E Barba sarebbe perfetto perché comunque Barba è un giocatore italiano, 29enne! Quindi non troppo avanti con l'età ma neanche giovane! È un giocatore con le stats più che discrete! Prende anche uno stipendio abbastanza basso! Potrebbe essere un'ottima opzione! Secondo giocatore in scadenza Emanuele Valeri! Il 24enne italiano anche lui sarebbe utilissimo perché il prossimo anno avremo solamente Giamas sulla sinistra visto che Renzietti si ritira a fine stagione! Giamas è una riserva per eccellenza! Magari poi crescerà tanto visto che sta facendo le prestazioni più che positive ma è una riserva! Valeri è un 70 di overall, prende pochissimo di stipendio, è alto un 80, ha delle stats molto ma molto buone! L'unica cosa che non mi può vincere Valeri è che nella realtà sta veramente facendo benissimo! Su FIFA è prendibile sì ma nella realtà è un giocatore fortissimo! E sta attirando l'attenzione su di lui di tantissimi club! Quindi noi molto probabilmente la prossima stagione rimarremo in Serie B! E Valeri non ce lo vedo sinceramente a non fare il salto di qualità! Anzi scenderebbe perché verrebbe da noi in Serie B! Uno come lui meriterebbe di rimanere in A! Quindi secondo giocatore in lista Emanuele Valeri! Terzo ed ultimo giocatore commesso nella nostra lista Pedro Obiang! Che ha anche la faccia fatta bene! Lui non risulta extracomunitario perché oltre ad avere la cittadinanza spagnola che è già residente in Italia da più di un anno! E lui è un cdc! Anche per quanto riguarda i centrocampisti il prossimo anno tocca fare una piccola rivoluzione! Infatti tolti Panada, Benassi e molto ovviamente Teio! Gli altri se ne andranno perché il Gargiulo non sta convincendo! Magnino idem! Quindi serve anche lì un po' come la difesa! Un po' come il terzino sinistro! Rifondare! Obiang porterebbe le esperienze insieme a Benassi! Che per la Serie B barra Serie A sarebbe veramente tanta tanta roba! È un 30enne 70enne di overall, lo stipendio guardate quanto lo abbasserebbe! Tantissimo! Poi è molto fisico come giocatore! Tra l'altro sappiamo purtroppo i problemi che ha avuto in questi anni! Sappiamo che non sta giocando per nulla al sassuolo! Quindi secondo me potrebbe anche scendere di categoria! Questi sono i giocatori che sono all'interno della nostra lista! Voi ditemi quali dei tre preferite! Così da andarlo a prendere nel mercato di gennaio! Vi ricordo che se volete il mercato di parazione, ossia quello di gennaio, in un singolo episodio e dunque un episodio incredibile, soprattutto in live, dobbiamo raggiungere il punto 8k su Instagram! Non sono tanto lontani! Spingiamo, spingiamo, spingiamo che manca poco! Ma Instagram oltre a questo è importante anche per rimanere aggiornati, conoscermi al 100% e rimanere in contatto con me! E poi vi basta un click per seguirmi! Non vi costa veramente nulla! Se invece volete seguire live questa carriera, vi è Twitch! Lì prenderemo le decisioni al 100%, tutti insieme! E inoltre il live è tutta altra atmosfera! Se invece volete vedermi parlare di altro, oltre al calcio, via TikTok! Trovate tutti i link in descrizione e nel commento che vi sa in alto! Noi dunque ci vediamo la prossima! Ciao a tutti!